Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa quarta puntata del podcast La Vita dagli occhi di un diciassettenne. Prima di iniziare con la puntata vera e propria e prima di andare a vedere di che cosa tratta la nostra puntata, volevo chiedervi Come state? Tutto bene? Passa bene questa settimana? L'ho già detto anche nella scorsa puntata, ma come dico molto spesso, questo podcast è un po' un dialogo tra me e voi, tra me e me stesso, e quindi è un po' come se fosse un dialogo tra me e di un mio amico, no? E quindi si dicono questi convenevoli, no? Come state? Stiamo bene? Come state affrontando la settimana? Noi siamo sempre qua per darvi supporto per questa settimana, anche perché questa settimana non è una settimana come le altre, questa settimana è la settimana di Natale Ah, che arrivano le lucine, arriva il freddo, i cappottoni, insomma, arrivano i cenoni con i panettoni, il pandoro A proposito di panettoni e pandoro, così mi è venuto in mente adesso, facciamolo, su YouTube o anche su Spotify, non lo so, scrivete se siete team pandoro o team panettone Non lo so, vediamo questo piccolo sondaggio come va Ma una cosa, ci dimentichiamo sempre del Natale, perché da piccoli il Natale a noi ci sembra una cosa bellissima, no? C'è quell'albero che è così grande, quando in realtà non è magari grandissimo, però per noi che siamo piccolini, siamo bambini, è gigante quell'albero, no? E vedere quei regali sotto l'albero, aspettare quel momento di scartare i regali, è proprio quella sensazione che ti perdi quando diventi più grande E ad oggi, infatti, parliamo proprio di questa cosa, del perdere la nostra sensazione da bambino, il nostro bambino interno Infatti oggi sarà una puntata molto più accogliente, perché oggi è la puntata, penso si sia capito, dedicata al Natale Infatti oggi andremo a trattare di come non perdere la nostra voglia di essere bambini, anche se si cresce, di mantenere quella voglia di bambino che abbiamo dentro Anche perché andremo a vedere più avanti nella puntata, come l'essere bambino è l'essere più creativo che abbiamo all'interno Che si stupisce di tutto, perché per lui è tutta una nuova scoperta E questa sarà la puntata di oggi Dopo questa piccola, brevissima introduzione, lo sapete che a me non piace fare le introduzioni, voglio subito andare alla puntata Anche perché poi è quello il vero succo della puntata, non è l'introduzione, quindi andiamo subito, no? Ma come prima cosa vi ricordo sempre che, devo farlo ragazzi, scusatemi Vi ricordo che ci trovate su YouTube come RS Films e su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music come La Vita dagli occhi di un diciassettenne Quindi andateci a ascoltare o andateci a vedere Quindi, come dico sempre, audioascoltatori, sedetevi sul letto, mettete le cuffie e buon ascolto Videoascoltatori, accendete YouTube e quello che vi pare e buona visione Andiamo subitamente a leggere il testo, che come da un po' di tempo è un pochino più lungo Essere bambini Essere bambini Tutti noi crescendo ci dimentichiamo cosa significa essere bambini Vuol dire non pensare troppo alle varie cose Agli impegni Godersi la vita Qualsiasi cosa per i bambini è uno spettacolo È una scoperta che non cessa mai di finire Un filo d'erba ci sembrava un albero Una piccola festa con solo dei parenti ci sembrava una festona Non come oggi Dove alle feste con i parenti tendiamo a non andarci perché la reputiamo noiose La fantasia La fantasia dei bambini che poi andiamo a perdere il peccato più grande Ci focalizziamo sulla routine Non andiamo più a scoprire nulla Esatto, il nulla Crescendo ci dimentichiamo della bellezza che era la fantasia Vedere delle semplici nuvole e credere che siano delle cose strane come aerei, animali Immaginare di fare tremila diversi lavori dall'astronauta allo scienziato al calciatore Non sapere le cose brutte del mondo Quando cresci tutte queste qualità le perdi Perdi l'essere creativo che è in te Perdi la bellezza delle cose che ti circondano Anche per esempio piangere per una banalità Non perdete l'essere bambino che è in voi Perché vuol dire perdere la parte più bella e calda di voi stessi Non vi fate influenzare dal lavoro, dalla routine che vi state creando Uscite da essa Riscoprite il mondo dagli occhi di un bambino Dove a volte un filo d'erba può diventare un albero O una semplice nuvola può diventare un aereo che vola Esatto Questo secondo me è uno dei testi più belli Scritti fino adesso che ho scritto un bel po' di tempo fa E perché avevo questa mancanza di sentirmi di nuovo bambino Molte volte soprattutto quando siamo giovani Noi non ci rendiamo conto di quanto in realtà cresciamo Perché noi siamo giovani no? E allora vediamo, andiamo avanti, viviamo giorno per giorno Ma poi ci rendiamo conto così di uno scocchio di dita che Guarda abbiamo 17 anni Abbiamo 18 anni, 19 anni Non ci rendiamo conto di quanto il tempo passi velocemente E di quanto in realtà noi perdiamo quest'essere bambino che è in noi Esatto come dice il testo Quest'essere bambino è l'essere creativo che abbiamo dentro Tutte le nostre invenzioni Quando eravamo bimbi correvamo per i prati lunghissimi E facevamo finta, non lo so Io porto la mia esperienza come al solito Io correvo su queste pianure e vedevo film Quindi mi immaginavo di essere un gladiatore E non mi interessava di altri giudizi che c'erano al di là di chi mi guardava Perché tanto ero bambino, non mi interessava Non mi interessava veramente E quindi crescendo questa cosa la perdiamo Come dice il testo è brutto perdere queste cose Perché l'essere bambino è un essere che se perduto Non capiamo più il senso della nostra vita Perché guardiamo solamente a il lavoro Perché noi siamo totalmente impegnati 100% della nostra giornata quando cresciamo È l'essere per forza lavorativo Vado a fare questo, ok vado al lavoro Torno da lavoro, che cosa faccio a casa? Invece di rilassarmi, guardare della tv Fare determinate cose Magari esprimere delle passioni Scrivere, realizzare arte, qualsiasi cosa Andiamo a pensare al lavoro A quello che andremo a fare domani Cioè andare a lavorare E quindi ogni volta questa cosa si perde L'essere bambino ogni volta che andava avanti Scopriva qualcosa di nuovo E noi invece ci atteniamo ad una routine Questa cosa è tornata molto spesso nelle varie puntate Perché parlavamo della routine Nel cambiamento abbiamo visto come la routine Ci può portare a non fare nuove esperienze Nelle idee la routine è sempre la stessa cosa Quindi l'essere bambino ci portava un po' a estrapolare Questo concetto di routine Ci andava a scoprire cose nuove E infatti come dice il testo Il nulla Crescendo vediamo il nulla Perché da bambino ogni cosa che scoprivamo Ogni cosa che vedevamo era una cosa che ci arricchiva Una nuvola per esempio Portiamo gli esempi che ci sono nel testo Una nuvola per noi poteva essere un aereo che Non lo so, volava Poteva essere un animale Poteva essere qualsiasi cosa Ad oggi vediamo le nuvole Diciamo solamente Ma sono nuvole Non ci rimane niente Questa è la vera cosa brutta Che si perde tanto Nel crescere Nell'essere grandi E quindi quando noi cresciamo Dopo questa puntata Rendetevene conto Adulti o giovani che ci state ascoltando Ci state vedendo Pensate a quando eravate bambini A quante cose Facevate senza il giudizio degli altri Esatto perché noi ci basiamo anche molto sul giudizio degli altri Molte cose non le facciamo più Perché temiamo il giudizio altrui Per esempio da piccolo noi ci mettevamo Non lo so Una maglietta di colore arancione Un vestito verde Mischiavamo colori Perché non ci interessava della moda Invece adesso giriamo Magari può essere per interesse personale Ma io sto dicendo per chi lo fa Perché si veste sempre dello stesso modo Ma si sente giudicato dagli altri Invece fate uscire questa vena bambinesca Volete mettervi quel giacchetto Quel giubbotto Quel pantalone Che è di quel colore strano Che magari nessuno porta Ma che vi frega Portatelo L'essere bambino era questo Andare in giro E tutti vi guardavano Ma un bambino non è mai brutto Quindi lo guardavi E dicevi Ah che bello E anche Cioè cercate di metabolizzare Questo pensiero E create un vero e proprio muro Dal giudizio Con questo pensiero So che non è facile Anche forse È una delle cose più difficili Non dare retta al giudizio altrui Io se avete sentito La puntata del cambiamento Ho fatto un vero e proprio cambiamento Che mi ha portato A creare un pochino questo muro No? Per chi si è perso le altre puntate Vi faccio un piccolo recap Ma veramente molto Molto breve Anzi andatevele a riascoltare Le altre puntate Perché ricordo che ogni puntata Ha un filo logico Che lo connette Quindi se andate a ascoltare Le altre puntate Troverete sempre Dei piccoli riferimenti Questo ci piace farlo Perché siamo un pochino Malati sotto questo punto di vista E quindi Io ho fatto un cambiamento fisico Molto importante E... Ma prima non riuscivo a mettere Determinate cose Perché Avevo paura Del giudizio degli altri Infatti mi vestivo sempre di nero Il mio colore prefissato Era nero Perché? Perché mascherava il mio fisico E quindi io Mi vestivo sempre di nero Ma magari mi volevo mettere Quel giacchetto di colore Non lo so Azzurro Quel giacchetto di colore giallo Non lo so Anche colori stravaganti Quindi l'essere bambino Si vede anche in questo Giusto? E poi la cosa che Bella Dell'essere bambino È che Ci stupivamo per Una piccolissima cosa Cioè Rendeteci conto no? Qui nel testo Faccio un esempio Molto Molto carino Che è quello di Vedere Un filo d'erba Come se fosse piccolino Ma in realtà È un albero enorme Esatto Questa è la cosa Perché ogni volta Che noi Andiamo a vedere Determinate cose Andiamo a vedere Anche una piccola cosa Una nuvola no? Prima magari Una nuvola ci sembrava Un qualcosa di Incredibile Grande Non sapevamo in realtà Che cosa era la nuvola Mentre adesso Che abbiamo realizzato Un pochino Che cos'è la nuvola Non Non ci stupiamo più Invece Questo dobbiamo riprenderlo Ragazzi Perché una cosa minima Le cose piccole Sono le vere cose importanti Dell'essere umano Perché tutti noi Andiamo avanti Guardando solamente Le cose grandi Perché noi pensiamo Più grande è quella cosa E maggiore avrà risvolto Magari su noi stessi Magari avrà risvolto Non lo so Sul mondo E no Perché le cose grandi Si sviluppano attraverso Le cose piccole Quindi Guardate la minima cosa Sorprendetevi Per quella minima cosa Anche perché magari Se vi sorprendete Per quella piccola cosa È più bello Perché vi godete Di più sicuramente Il momento Quei piccoli momenti Siccome è una puntata Dedicata al Natale Quando siamo Insieme ai nostri parenti Lì in quella tavola No E guardiamo Quella piccola scena Come se fossimo Come se in realtà La nostra anima Sta guardando un'altra cosa Una visione in terza persona Esatto Come vediamo Questo bellissimo momento E non ce la godiamo Perché diciamo Eh vabbè È la solita cena Magari molti pensano così E invece no Perché in quella minima parte In quel minimo Momento dell'anno Perché se guardiamo Tutto l'anno Alla fine il Natale È un giorno Due E se contiamo Anche la vigilia È quel momento Talmente bello Quella magia Delle luci Di tutto quello Che ci sta Che è È magico E quindi ci dobbiamo Stupire per questa minima cosa Quando cresciamo E vediamo ancora Quell'albero Non ci stupiamo Se è un albero Di Natale Stupiamoci proprio Perché è L'albero di Natale Oddio È un po' una frase Che è un po' un paradosso Ok Però spero sia passato Il messaggio Perché L'essere bambino È una cosa Che Crescendo Dimentichiamo Dimenticandocela Magari Dimentichiamo anche Passioni Dimentichiamo Determinate cose Che da bambini Reputevamo scontate Ma crescendo Abbiamo perso Questa è la cosa brutta E infatti La cosa che perdiamo Maggiormente È la fantasia Che bello Avere la fantasia Di un bambino Qualsiasi cosa vede È una storia Per lui Vede un filo d'erba Si può immaginare La storia Di questo grande Cavaliere Filo d'erba Magari si chiama così O magari L'ha visto in un cartone Ha una fantasia Clamorosa Quando a un bambino Gli dice di fare un tema Lui prenderà Degli spunti Da qualsiasi cosa Lui ha visto Guarderà un albero Per lui L'albero Sarà una grande cosa Che Non lo so Un Un mecenate Non lo so Un Un gladiatore Un qualsiasi cosa Questa è la fantasia Che noi perdiamo Perché noi guardiamo Alla fine Quando cresciamo Guardiamo l'atto realistico Delle cose Che a volte può essere giusto Ma a volte può essere sbagliato Perché noi vediamo un albero Non immaginiamo più un gladiatore Immaginiamo solo legno Albero Legno Foglie Rami Le cose realistiche E non va bene Perché Ogni tanto È giusto vedere le cose realistiche Perché Guardare le cose da un punto di vista realistico È anche Educativo Ma guardare troppe cose dal punto di vista realistico Tendiamo anche a diventare noiosi con noi stessi Cerchiamo di sparare a destra e a sinistra Nella nostra fantasia Perché La fantasia è proprio quello che ci distingue Da ogni essere Ogni essere umano È a modo suo Perché ha la propria fantasia Ha il proprio modo di pensare E da bambino Questa cosa La È amplificata al 100% Quindi se state ascoltando questa puntata E non vi siete mai resi conto Di che trasformazione abbiamo fatto Dall'essere bambini All'essere grandi Questo deve essere la vera trasformazione Ok Perché la fantasia Come anche dice il testo La fantasia dei bambini Che poi andiamo a perdere Il peccato più grande Ci focalizziamo sulla routine Torna sempre questo concetto Perché la routine C'è come se Diventiamo computer Ormai abbiamo telefoni dappertutto No? Quindi Ormai noi Lavoriamo con un algoritmo Sempre in mano Andiamo quello Lo Apriamo il telefono Andiamo sempre su quell'applicazione Su quell'applicazione Facciamo sempre quella determinata storia Magari No? Siamo su Instagram Scrolliamo sempre Determinate storie Guardiamo sempre il post È una routine Che si ripete Alla fine Se ci pensate Tutta la nostra vita È Comandata da una routine E questa cosa si è persa Si è persa Perché l'essere bambini Non ha routine Ogni volta tu ti alzavi Era un giorno nuovo Era un giorno che non sapevi Quello che andavi a fare Magari andavi al parco Magari andavi da un'altra parte Non lo sai E quindi è questa la cosa E quindi è questa la cosa bella E quindi è questa la cosa bella dell'essere bambini Ok? L'essere bambini ti porta A non avere una routine E quindi ad essere più Libero anche con te stesso Non avere più una Una routine che ti Ti soggiuga ogni volta Quindi ragazzi miei Siate sempre bambini Se adesso ci state ascoltando E non so che cosa state pensando Che cosa state facendo Magari state guidando la macchina Magari Non lo so Stavate leggendo un libro E mi hanno detto Ma vediamo se RSVM Si ha fatto uscire il podcast Non lo so Adesso invento un pochino Però mi raccomando ragazzi Cerchiamo sempre di stare Di avere questa voglia bambina Perché l'essere bambino Ci porta ad essere più creativi Ci porta a non avere una routine Ci porta a D'essere veramente Noi stessi Quindi Non perdiamo l'essere bambini Scusate se questa puntata È durata di meno Magari mi sono ripetuto molto Ma come sempre Io vi dico che Essere Cioè Dico sempre le stesse cose Mi ripeto molto spesso Nelle puntate Sapete perché? Perché ci sono dei concetti Che voglio veramente Che vi rimangano Alla fine della puntata Quindi Siamo bambini Siate bambini Se adesso state crescendo Avete 17 anni E vi state scordando Che state pian piano crescendo Non vi dimenticate ragazzi miei Perché l'essere bambino È l'essere creativo di noi stesso È l'essere caldo Anche quando vi state approcciando Con una ragazza Non fate i grossi Non fate quelli grandi Quelli maci Anzi magari Tirare fuori la parte più tenera di noi La parte bambina di noi Ci può avvicinare molto di più Ad una persona Che magari fare Quel carattere grosso Quel carattere spavaldo Ok Quindi quando sarete Con le vostre famiglie Io vi auguro Veramente buone feste E un buonissimo Natale Spero che lo passiate Con i vostri parenti Con tutti gli amici Che volete Che vi stanno più a cuore Ma mi raccomando Ricordatevelo E magari se vedete persone Che si comportano In un modo Un po' grosso Un po' spavaldo Mi raccomando Diteglielo Prendete quella parte Da bambino E fatela estrapolare Perché quella È la vera parte Di voi stessi La parte creativa Ok La fantasia da bambino Non la perdete Va bene Quindi Io vi auguro Buone feste Mi raccomando ragazzi Quando sarete Nelle vostre tavolate Quando sarete insieme A tutti gli altri Dei vostri parenti Fate uscire Questa parte bambinesca Divertitevi di più Mentre state giocando a carte Non lo so Divertitevi Sbizzarritevi Ricordatevi Come eravate voi Da bambini Ok Quindi Buone feste Buon Natale E mi raccomando Siate sempre Bambini